Il lago di Como sta bene e i pesci vivono in un ambiente favorevole. È quanto emerge dal censimento della fauna ittica dei laghi alpini commissionato da Regione Lombardia nel 2013 e affidato tramite gara europea a un raggruppamento temporaneo di imprese con la collaborazione di un prestigioso istituto svizzero di ricerca sulle acque. Lo stato dei laghi Lombardi è risultato molto buono con punte di eccellenza relativamente al lago di Como che è risultato in perfetto equilibrio, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava. Anche gli altri laghi, perfino il meno profondo lago di Varese, hanno dimostrato di godere di uno stato complessivo etiologico buono e sostenibile, ha aggiunto. I risultati saranno presentati durante un convegno internazionale in programma tra maggio e giugno a Palazzo Lombardia. Tra le finalità dell'indagine, il censimento del popolamento ittico di sette laghi Lombardi, Maggiore, Como, Varese, Mezzola, Iseo, Idro e Garda, gli approfondimenti specifici sulle specie target, il monitoraggio dell'anguilla. Dalle prime informazioni filtrate, i laghi e i fiumi Lombardi godono di ottima o buona salute. La consistenza degli stock ittici inoltre è tale da rendere possibile la prosecuzione della pesca professionale e amatoriale nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Queste condizioni, conclude Fava, permettono di garantire i livelli occupazionali attuali nel settore, che oggi conta all'incirca 200 pescatori, con la possibilità di creare anche qualche posto di lavoro aggiuntivo per i giovani. Dal censimento emerge infine un dato curioso. Nelle acque lombarde sono stati trovati pesci esotici, che vanno contenuti per favorire l'aumento delle specie autoctone.